Chiederò a Regione, Provincia e Anas di supportare la realizzazione della rotatoria nel bivio della frazione Marane. La sicurezza deve essere presa in considerazione. E quanto detto ieri sera nel corso della trasmissione di Onda RIV, chiedete al sindaco, il primo cittadino di Sulmona, Peppino Ranalli. Un argomento rimesso in discussione dei residenti delle Marane che si sono collegati in diretta telefonica. Sono circa 5.000 cittadini che frequentano abitualmente la zona senza sicurezza. Il comune di Sulmona ha messo a disposizione una somma di 150.000 euro, ricorda Ranalli, che a tempo fa effettuò un sopralluogo nella zona con l'ingegnere capo dell'ANAS, l'assessore lavori pubblici Stefano Goti e il consigliere di minoranza Alessandro Lucci per verificare la fattibilità tecnica dell'opera. In quell'occasione l'ANAS propose una soluzione alternativa che fu rigettata dalla polizia municipale. Il sindaco Peppino Ranalli ha rassicurato i residenti, annunciando che riprenderà in mano tutto il discorso, facendosi portavoce di una serie di azioni da porre in essere per una migliore sicurezza sulla strada alle 17, assieme ai sindaci di Roccaraso e Castel di Sangro. Il bivio delle Marane è una zona importante della città che ho sé primo cittadino. Vi transitano pedoni, ciclisti e bambini e un incrocio che deve essere tutelato. Il maledetto bivio è stato al centro più volte di numerosi incidenti stradali, anche mortali. L'ultimo scontro non grave riserà al mese di settembre, quando fu investito un anziano ciclista.